un mio amico mi ha chiesto perché partecipi a un evento a cui sei già stato io gli ho risposto questo per il marketer's world non vale non vale perché è come se ti chiedessi perché esci con i tuoi amici quando ci sei già uscito almeno una volta mi aspettavo un bel evento dal marketer's world 2018 ma si è rivelato spettacolare gli ospiti la formazione tutti che i stati che ci hanno proposto se non fosse stato per quei tre giorni dell'anno scorso molti dei miei progetti non sarebbero neanche nati la cosa bella di un evento come questo è che ti arriva un'energia talmente forte che capisci di non essere solo capisci che altre persone sono lì con progetti totalmente diversi dai tuoi ma con la stessa carica la stessa energia la stessa voglia di di farcela per quanto sia grande o piccolo il progetto onestamente non lo so cosa aspettarmi sicuramente non mi aspetto nulla di banale perché marketer's non è banale anche se una persona è entrata nella community di marketer's da poco riuscire a partecipare a questo evento sarà un qualche cosa di unico perché c'è un qualche cosa che va al di là dell'insegnare va al di là dell'imparare c'è proprio un rapporto che si crea tra le persone e tutte quelle che partecipano ai meet up durante l'anno tutte le persone che fanno parte della family tutte le persone che a volte chiedono aiuto o danno aiuto gratuitamente nei gruppi le ritrovi lì e ci parli come se fossero amici da una vita